Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con Dark Soul Remastered dunque ripartiamo e andiamo a finire questa fottutissima zona allora dove abbiamo seguito il gatto mi è stato comunicato in un commento che non è che ci portava lì per la scorciatoia ma bensì perché ci sarebbe un passaggio segreto per liberare un qualcuno guarda qua morto c'è da liberare un qualcuno non so chi boh ci andiamo allora questi ci hanno fatto il culo subito mi sembra strano che avevano perso l'umanità le mortacci loro vabbè subito subito ma ero dimenticato che questi risponavano dai uno alla volta dai venite e non vengono vieni e ti pareva e mortacci tua dai che mi prende lui allora ti sei in modo giusto io aspetta un attimo questo come io l'ho respinto cazzo però il pendente il pendente si può usare sempre però non è una barriera allora cioè esplode e rispinge la cosa comunque mi avete rotto le palle però eh state un po' esagerando mostri di merda guarda è ora che ben andate un po' affanculo guarda là guarda là oh Cristo dai mo erano morti tutti ma veramente fate sono arrivato al primo colpo li ho ammazzati senza morire mai mo muoio subito ma che è atta guarda sta o bastardo e puttana di merda oh andate vana a cagare tutti allora mo c'è da trovare la strada altra non è qua mettiamo il gatto qua sotto penso che si vabbè basta basta arrivare e se ci fai la sombra eh guardale guardalo no attacci i vostri umanità 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 ah qua si è scema mi sa che non era qua allora va a trovare la strada dove cazzo era sto gatto umanità umanità Puttate qua, no 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 no, qua stiamo andando da tutt'altra parte, eh la c'è il boss, mi sa, eh cacca, va va va, e dai, vabbè, cazzo c'è qua sto orto, la sarete tenito a bianco, qua scendiamo, eh sì, e qua andiamo al boss, ma non ho trovato la strada per liberare sto cosa che mi dicevano, ma c'è gente là sotto, ce ne sono mostri qua sotto, dove vengono, ho visto le cose rosse, eccole là, ci scende qua sotto, ci buttiamo raga, cazzo c'è, cazzo c'è morto, ma c'era qualcuno là sotto, cristo che pacco vabbè tanto non è per l'animele ma perché io voglio trovare la strada che abbiamo fatto con quel cazzo si gatto di merda allora la non è quindi quelli le lascio li lasciamo sta però destra madonna adesso porco ok va bene Maledetta troia, eh siamo sempre là, scendi, siamo sempre qua siamo, dove cazzo era quella strada di merda, guarda che stavo cadendo. Cioè non riesco a trovare il ponte, c'è quel montacaric che ci faceva salire. Impossibile che è qua. Bastardo! Maledetti! Senti qua non c'è nessun cazzo di montacarica, dove cazzo era la strada? Niente, qua ci siamo già stati. Qu'è? 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 Un po', a1, cazzo. Niente, qua! Testa aiuto. Qua ci sono altri cazzi di mostri. Ma che è? Madonna puttana, ancora vivo eh? Cazzo! Hopi? Sarà mica qua. Hai visto un ascensore? Ma dove? Cazzo sbuchi tu. Ma dove andiamo? Ah ok, allora mi sa che è qua davvero eh. E' qua, eccola. Ah, l'abbiamo trovato. Adesso vediamo. Eccolo qua. Eh, vieni qua. Guardalo, guardalo, guardalo. Oh, ma sei un bastardo di merda eh. Ma cosa è? Un lupo? Ehi, è cosa qua? Ho liberato. Scudo grande purificatore. Era il boss là del lupo. Allora, scudo grande purificatore. Cazzo. Usato il cavaliere Artorius che succomba all'abisso. Sif. Difesa magica. Bene, tutto qua. Ho fatto tutto sto bordello per uno scudo che non useremo mai. Bene, quindi adesso possiamo andare al boss dell'aria. Ci andiamo già così perché tanto chi se ne frega, poi vediamo com'è. Io non mi ricordo nulla. Guarda, ti ricordiamo. Parca la troia. Dove devo andare? Da sotto? Ma non certo da qua. Dario torna su. Da qui. Eccoci qua. Bene. 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 Le nostre limelle sono là. Ma io non capisco com'è che siamo morti. qua sotto, quando là sotto si vede palesemente qualcuno. Ma vabbè. Andiamo su. Eccoci qua. Eccoci qua. Ah, ecco. Ma lo si butta sotto. Ah, di nuovo qua il mostro. Eccolo qua. Noi lo vedevamo da sopra. Caccia tua. Caccia tua. E prendilo cazzo. E prendilo cazzo. qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Non mi ha fatto vedere manco se gli tolgo energia. Cazzo qua. No cazzo di lock. De merda. Ho tuttissimo lock. De merda. Vabbè. Tanto poi ci andiamo a sparare. amici miei non ho tempo da perdere con voi manco e botana scendi oh cristo ma mi seguono ma ne andate ma ne va doi va ma ne andate no vabbè fermato me ne può fregare da meno recupero le hanno togli sto cazzo bello ok vabbè noi gli facciamo una beata minchia insomma e guardalo va e guardalo va e guardalo va e guardalo e guarda a lui e riguardalo no no sposta te vai eeeu basta maledetto porco maledetto porco aspetta signor mo parliamo un attimino che scendo sto falò mi riparo armatura e venite scendo in un'altra arriva a 4 eppure dopo errore a 4 eppure dopo errore a 4 cosa facciamo 40 37 23 ah tu arriva a 37 tu sei già a 37 ok l'elma ok poi livellino la forza e la destrezza fammi parlà con la tipa dove stai? ma che è sparita no che cos'è? non mi dici niente? niente niente vabbè c'è sparita niente moda ora ritornare il deal si è finito si torna proprio al fungo si torna proprio al fungo la bomba che viene un archivio dov'è? il giardino? no ah si ma qua ci sono questi due vedete? eh no eh no eh no prema santuario santuario eh no qua dovrei ammazzare pure sti due mi rompo le palle ecco qua eh dovrei parlare con la signora fungo dove stai? vediamo se c'è giù qualcosa che l'ho salvata la principessa si fungo 3 ok polvere parante ok polvere parante ok arma invisibile luce ah luce va questa qua ci serviva per andare là sotto ormai abbiamo la lanterna però se uno voleva usava questa luce per andare nelle catacombe più questo qua uno e due ormai non ci serve più c'è c'è Enel ragazzi ah bene trasporti l'antorio del fuoco e si va a fare l'ultimo boss ciao ok 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 aspetta un'altra ah questa la mano la mano sarà chiaramente umana non l'abbia capito la potrei usare a prendermi le anime e quanto altro magari ci arrivo a fare un altro livello non lo so 24.000 e tanto scusa questo perché due va ok vabbè dai siamo stati ok vabbè dai da eh cavalieri eh lo cazzo è andato eh fornace della prima fiamma ci avviciniamo all'ultimo boss qua ci stanno i soldi cavalieri neri dorati neri come cazzo sono loro ok spadone del re cavaliere pezzo di titanite che ne fai che sei ti semplici se non sbaglio erano 5 questi cavalieri se non sbaglio non mi ricordo male erano in 5 oh il cavalieri erano l'armatura scusa il cavalieri nero cavallieri nero cavallieri nero argento e nero vabbè mi sembra meglio la nostra dove cazzo sono di ferro pallieri nero l'argento ah nero eccolo qua guante del paladino guante del guardiano 46 48 e 8 chissà se noi li possiamo mettere o siamo sempre pesanti guante del gigante pesante cavallieri nero ok è il guardiano l'eleno è maledizione allora mettere un attimo che stra pesanti no pesanti guardiano 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 potre vieni caro siamo arrivati ragazzuoli siamo arrivati ma so cazzi qua ma questo veramente so cazzi carichati durata limitata si aspetta mettiamo questa è sto fungo che lo voglio provare se ci fa vedere una volta sola comunque ragazzi andiamo eccolo qua è bastardo ma vedi il fungo di Elizabeth come ci fa recuperare energia che sei fottuto da ragazzo vuoi andare che ti sono ma vaffanculo la coglione sono stato un coglione di nuovo l'ho lisciato l'ultimo colpo no l'abbattiamo facile ragazzi siamo troppo forti sono stato io un coglione cristo no vale la pena che porno umano tanto il fungo di Elizabeth avete visto come ci faceva recuperare energia insomma da qui dovevo partire pensavo che c'era un altro falò qua sotto ma questi risponono tutti che palle si l'abbè basta che fare no no sacci tua ragazza di stamina comunque è uno schifo stavo cadendo nel buco qua va 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 allucinante allucinante stavo per cadere venendo là dentro dai ma guarda tu quanta cazza di strada devo fare no stai si e si è salvato trepa ok uno vai e caccio niente oh l'ha lasciata e mi ha ripreso il fungo è già finito riprendete il fungo mi hai rotto le palle mi hai rotto è bastardo no curati col fungo bravo bastardo 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 dai e battene la fanculo addio lord dei tizioni bene bene le animale quanto me ne devo 70.000 e il palo niente non mi ricordo scusa 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 ah è qua ah no vincola e così vincolando il palo arriva sul moto finale eh si dai e con questo tizione qua che ci ha dato dove cazzo dove cazzo è il tizione che ci ha dato dove è scusa ci ha dato ecco cioè con quest'anima qua noi possiamo potenziare la nostra spada ancora di più però nella seconda run quindi ragazzi vincoliamo sto palo ecco qua bruciato tutto legame del fuoco e questo è quanto ci sono altre due finali pure qua se non erro da fare e questo è tutto ragazzi abbiamo finito anche dark soul remastered era l'unico che mi mancava per completare la trilogia perché io avevo già sia dark soul 2 con tutti i dlc e dark soul 3 con tutti i dlc più elder ring che io ovviamente questi qua dark soul 2 3 ed elder ring l'ho giocato sulla ps4 questo non l'ho mai giocato perché non mi piaceva come veniva sulla 4 nella 5 c'ha una grafica superiore cioè il video lo vedete in 1080p e 60 fotogrammi al secondo mentre sulla 3 non rendeva proprio cioè non mi piaceva cioè sulla 3 scusate sulla 4 quindi niente ho deciso di portarlo nell'attesa che adesso il 19 settembre esce il gioco l'altro souls stile Bloodborne quello di Pinocchio e poi porteremo quello sul canale e quindi niente ragazzi che dire è stato un piacere portarlo qua sul canale spero vi sia piaciuta la serie che vi siete divertiti ringrazio tutti per i suggerimenti e quant'altro anche se vi ripeto io quando ci ho giocato la prima volta già io avevo fatto tutto quindi solo che la memoria ci ha fatto ricordare però io avevo fatto già tutto le armature ce le avevo potenziate al massimo le spade pure ho fatto di tutto e di più quindi va bene si può saltare sto filmato si ok e da qui praticamente riparte la seconda run ecco qua da qui si riparte a fare una seconda run che io ovviamente non farò cioè se la voglio fare me la farò per i cazzi miei ma non certo farò un altro video da portare sul canale quindi ragazzi un saluto a tutti e ci si vede poi alla prossima storia con un nuovo gioco un saluto ragazzi da Kratos che ha battuto tutti i souls Kratos ha battuto Dark Souls Remastered il 2 il 3 è Elden Ring anzi fatemi un po' vedere eccolo qua è morto però non è umano però è sempre lui il nostro amico Kratos ragazzi è stato un piacere alla prossima ok Grazie.